Si apre nel capoluogo l'ultima settimana utile alla presentazione delle liste elettorali. Si conta che saranno circa 900 i candidati per i banchi di Villa Gioia, tra questi sette aspiranti a sindaco. Americo Di Benedetto per la coalizione di centrosinistra Pierluigi Biondi, per la coalizione di centrodestra Nicola Trifoggi per la coalizione civica L'Aquila Polis, Carla Cimoroni, sempre per la coalizione civica L'Aquila Chiama, Claudia Pagliariccio, Casa Pound, Giancarlo Silveri per la coalizione di riscatto popolare e Fabrizio Righetti per il Movimento 5 Stelle. Già solo nella giornata di oggi sono state presentate due compagini elettorali, rappresentative di quella che non sarà un'elezione del nuovo Consiglio Comunale molto scontata. L'Aquila, sicurezza e lavoro, che correrà per Di Benedetto, demiurgo della lista Enrico Verini, già consigliere comunale, ma questa volta non candidato. Ha presentato poi la sua candidatura anche il partito della Rifondazione Comunista, al quale saranno legate tre liste. Rifondazione Comunista, uscita dalla Giunta Cialente, appoggerà il candidato sindaco, Carla Cimoroni.